Covid si svuota la terapia intensiva dell'ospedale di Pesaro. Da Villa Fastigi parte la corsa di Pesaro capitale della cultura 2024. Stelvio Unlimited alla scoperta della sfida di Zico Pieri. Pesaro Rugby dà il benvenuto al direttore tecnico Nick Scott. Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitali terrestre, questa è Rossini News, il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 2 luglio apriamo occupandoci della situazione sanitaria nella regione Marche. Dopo il rialzo di contagi registrattosi ieri per un cluster a San Benedetto del Tronto, oggi tornano a riabbassarsi i casi positivi giornalieri. Ma non è l'unica buona notizia visto che finalmente l'ospedale di Pesaro non ha più pazienti in terapia intensiva. Vediamo. Luglio volta pagina su 9 mesi di ricoveri, cure ed ansie. Ieri l'ospedale San Salvatore ha dimesso una donna di 73 anni che è stata l'ultima paziente del reparto di terapia intensiva pesarese. Un reparto che si svuota dopo 9 mesi e più di 400 persone curate con picchi fino a 42 pazienti nel mese di marzo. Ora continuare a tenere gli ospedali vuoti passa anche per la ricerca di un altro colpo di reni dalla campagna vaccinale. Secondo i dati del sistema di prenotazioni al siero della regione Marche sono infatti 54.000 i marchigiani ancora prenotati alla prima dose. Esauriti questi le prenotazioni saranno terminate e si procederà solo con i richiami. Ma lo si farà con una cifra sottostimata rispetto al 1.100.000 vaccinati che era la cifra indicata per l'immunità di gregge. Con i 54.000 che restano si sfioreranno i 930.000 marchigiani vaccinati. A mancare all'appello sono soprattutto quasi 180.000 cittadini sotto i 40 anni. Passando dai vaccini ai contagi dopo l'interlocutore o balzo in avanti registrato giovedì con le marche ritrovate sia a tracciare 46 nuovi casi positivi al covid-19. Dopo una settimana tenuta sempre sotto le 15 unità oggi il report del servizio sanitario regionale indica una nuova flessione. Sono infatti 28 i nuovi casi di contagio con una percentuale di tamponi positivi riabbassatasi al 3% dopo aver sfiorato il 5% del giorno prima. Contagi riconducibili a un presunto cluster di giovani di San Benedetto del Tronto. Dalla provincia di Ascoli Picena arrivano infatti 18 dei 28 contagiati, appena 5 quelli invece in provincia di Pesaro Urbino. Il monitoraggio resta però attento anche in considerazione dei timori sulla variante delta e una non augurabile retromarcia dalla zona bianca a zona gialla. Per conservare la zona bianca noi dobbiamo quotidianamente ogni giorno stare sotto i 50. Speriamo che sia un caso isolato riconducibile a una magari specifica situazione ma invito tutti all'osservazione delle regole che ancora sono vicenti e ad avere la massima attenzione e cautela perché è chiaro che proprio questi dati di oggi ci sottolineano il fatto che se non siamo attenti il rischio di una ripresa del contagio è ancora forte e vicente. Quindi massima attenzione, massima cautela, si può fare tutto ma nel rispetto delle regole che sono ormai che penso chiare a tutti. La candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 parte da Villa Fastigie e Villa Ceccolini, quartiere 4 che è stato scelto come capoluogo della cultura dal 1 luglio al 31 dicembre. Il quartiere di Zagor, citazione in memoria del compianto Mirco Bertuccioli dei Camillas, sarà dunque un laboratorio di idee e iniziative propedeutiche alla candidatura di Pesaro. L'iniziativa è stata presentata ieri al locale QB Quanto Basta di Villa Fastigi. Rossini TV era presente all'appuntamento e ha realizzato uno speciale che potrete vedere domani sabato 3 luglio alle 21.15. Intanto però vi diamo qualche anticipazione nelle interviste realizzate per noi da Marco Cadeddu. In queste settimane stiamo lavorando al bando di partecipazione, le iscrizioni termineranno a fine mese e tutto il bando, tutto il pacchetto andrà confezionato per il mese di ottobre. Quindi capite l'importanza di creare momenti partecipativi come questi dove un quartiere si è messo in discussione assieme a tanti altri della città per dire se fossi io il capoluogo come lo è Pesaro, il capoluogo della cultura per sei mesi, cosa farei di più delle attività che già svolgo, come posso farle più in rete, come posso cercare una collaborazione in più e su questo è venuto fuori il programma di Villa Fastigi e Velle Cecolini che presentiamo questa sera. Per noi incontrare la creatività, la voglia di fare, dei ragazzi, delle associazioni, dei amministratori che hanno lavorato a questo progetto è fondamentale, è un po' diciamo un esperimento, un laboratorio di quello che più in grande dobbiamo fare in queste settimane per la candidatura di Pesaro, capitale italiana della cultura, tant'è che con noi ci sono anche i progettisti di Panspice che sono anche tra l'altro il gruppo che ha lavorato con successo non solo la nostra candidatura UNESCO del 2017 ma anche la candidatura di Procida che sarà la prossima capitale della cultura, quindi insomma abbiamo scelto anche un team nazionale di assoluto livello. Esperti in candidature. Esatto, in candidature e in vittorie anche. Non perché vogliamo vincere per forza, sappiamo che sarà molto difficile vincere, quindi non ci facciamo illusioni ma crediamo che invece sia un percorso fondamentale partecipare perché come il quartiere Villa Fastigi e Velle Cecolini e gli altri si sono messi in discussione, ripensati, hanno avuto nuove idee, le hanno discusse, le hanno portate ai cittadini e le realizzeranno adesso per sei mesi, altrettanto sarà importante per noi farlo a livello provinciale e quindi candidare Pesaro a capoluogo vuol dire di fatto candidare tutti i 50 comuni della nostra provincia. Infatti settimana prossima incontrerò intanto i due assessori di Urbino e di Fano per condividere anche da questo punto di vista le strategie, con Fano per recuperare alcune parti importanti del progetto della candidatura di Fano l'anno scorso e con Urbino per iniziare a tracciare appunto la strada 2033 e quindi un lavoro che poi vorremmo in questi tre mesi, che sappiamo sono pochi, però estendere gli altri 50 comuni per fare in modo che si iscriva a un programma condiviso per, speriamo, vittoria, in modo che anche il budget della vittoria, ricordiamo che il premio per la capitale italiana della cultura è di un milione di euro, che possono essere molti, possono essere pochi, ma in ogni caso se dovessimo vincere li vorremmo spendere in tutto il territorio provinciale, quindi con gli amministratori e con le realtà artistiche, culturali, creative della provincia costruiremo un programma per cui in caso di vittoria ogni comune sarà capitale italiana della cultura per una settimana. Pesaro, quartiere di Zagora è un progetto nato dall'unione delle associazioni di Villa Fastigia e Villa Ceccolini che si sono messi insieme per la prima volta dopo tanto tempo per elaborare un progetto comune che riguardasse entrambe le frazioni del nostro quartiere. Il quartiere 4 è composto appunto da Villa Fastigia e Villa Ceccolini, due comunità vicine ma poco dialoganti. Abbiamo deciso di metterci insieme, di scrivere e partecipare a questo bando indetto dal comune di Pesaro e abbiamo deciso di chiamarlo Pesaro, quartiere di Zagora, un po' per richiamare una famosa frase, citazione di Zagor Camillas che è deceduto recentemente a causa del Covid-19 e appunto per omaggiare la sua figura in quanto ambasciatore di Villa Fastigia nel mondo. Movida turbolenta ieri sera nella centrale piazza Andrea Costa di Fano dove poco dopo le 22 sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare gli animi di un 36enne albanese che molestava ripetutamente i passanti e la clientela dei locali importunando in maniera pesante alcune ragazze. L'uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine era in evidente stato di ubriachezza e si è scagliato contro i carabinieri che cercavano di calmarlo. Prima ha cominciato a tirare sedie dei locali contro gli agenti, poi non colpendoli si è lanciato su di loro aggredendoli con ripetuti spentoni. Immobilizzato sono scattate le manette. Questa mattina è arrivata la convalida dell'arresto col 36enne rimesso in libertà in attesa del processo. La fondazione filantropica Wanda di Ferdinando e l'orchestra femminile Olimpia hanno presentato oggi presso il comune di Pesaro un appuntamento musicale che metterà in contatto le note che risuoneranno il 9 di luglio dal Museo Nazionale Rossini con quelle degli orfanotrofi dell'Afghanistan dove bambini di Kabul si esibiranno in un concerto parallelo. Il 9 luglio in diretta dalla Sala Playel del Museo Nazionale Rossini incontreremo in collegamento in diretta da Kabul un gruppo di musiciste che risiedono presso l'orfanotrofio Afceco che sono una rete di orfanotrofi nel Medio Oriente che danno ai ragazzi la possibilità di studiare musica, pittura, di fare attività sportive intesi come progetti di vita. Ci collegheremo e condivideremo un concerto con alcuni membri dell'orchestra Olimpia, un trio di fiati e un duo pianistico. Ci saranno alcune ragazze dall'orfanotrofio che ci faranno ascoltare sia la nostra amata musica occidentale, brani di Chopin, sia dei brani tradizionali afghani e tutto questo nel segno di un'amicizia, di una collaborazione che l'orchestra Olimpia intende portare avanti sia con l'orfanotrofio sia con l'Istituto Nazionale Musicale Afgano con l'impegno di sostenere il diritto allo studio di queste ragazze. Inoltre l'8 luglio alle 10.30 alla Biblioteca San Giovanni ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica Afghanistan per dove a cura di Carla Dazzi, un attivista del CIS da Centro Italiano di Sostegno alle Donne Afghane e sono fotografie letteralmente rubate, scattate in Afghanistan dal 2002 ad oggi che raccontano un po' la vita di tutti i giorni delle donne, dei bambini, anche degli uomini e questo è un diciamo un momento di arricchimento insieme a quello che poi è il concerto e con il giorno del concerto andremo insieme alla Fondazione Vanda di Ferdinando a formalizzare un piccolo aiuto economico per l'Orfanotrofio per sostenere le attività musicali come gesto simbolico di un segno di amicizia e di volontà di collaborare per il futuro. Gli appuntamenti che ci vedranno impegnati la prossima settimana sono appuntamenti importanti e che per noi coincidono con l'anniversario della creazione della Fondazione Vanda di Ferdinando, in particolare il concerto che si svolgerà in collegamento con Kabul e che ci permette di unire musica insieme allo sport della Maratona delle Dolomiti, insieme ai concetti di solidarietà per festeggiare in maniera diciamo nuova l'anniversario di creazione della Fondazione Vanda di Ferdinando. Per noi come Consiglio di Amministrazione la memoria è un elemento molto importante e cerchiamo di rendere omaggio a Renato di Ferdinando che ha creato appunto la Fondazione come sapete in onore della moglie Vanda ed è proprio lui che ha visto come importanza fondamentale le attività a favore dei giovani e noi sentiamo la responsabilità di rendere omaggio alla memoria della famiglia di Ferdinando e quindi ci impegniamo a favore delle giovani generazioni facendo in modo che le bambine e i bambini di ogni parte del mondo possano ribadire il diritto a immaginare un futuro libero e dignitoso per tutti e questa è una buona occasione. Domani il sabato 3 luglio cominciano i saldi estivi per le attività commerciali e questa è la data di partenza fissata per quel che riguarda i negozi della Regione Marche saldi che si concluderanno il primo settembre. Invece prende il via lunedì 5 luglio al Teatro Sperimentale la 33esima edizione dell'Accademia Rossignana Alberto Zedda cioè un seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche. L'Accademia diretta dal sovrintendente del Roff Ernesto Palassio propone ad allievi e uditori lezioni di interpretazione vocale, musicologia, arte scenica, conferenza tema e masterclass. Al termine dei corsi lunedì 19 luglio sempre al Teatro Sperimentale si terrà il consueto concerto finale degli allievi. Da martedì 6 luglio torna San Pietrino Summer Street un appuntamento giunto al sesto anno che ogni martedì d'estate a partire dalle ore 18 animerà Piazzetta Toschi Mosca in un connubio fra gastronomia, musica, artigianato e la cultura dei musei civici. E sempre dal 6 luglio torna nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca il Burattini Opera Festival. Il BOF giunto alla 34esima edizione si terrà fino al 15 luglio con la formula abituale dedicata ai più piccoli che mette in scena rappresentazioni di grande qualità con Burattini, Marionette, Pupazzi e Buoni Sentimenti. Ed è stata inaugurata ieri sera nelle cortile di Palazzo Gradari la mostra Tra il dire e il mare donne dal pensiero attivo ricercatrici di innovazione e bellezza. Un progetto ideato dall'artista Susanna Strapazzini con Patrizia Caimi, presidente del terziario donna Confcommercio Marche Nord. L'idea è nata dall'esigenza di rilanciare l'imprenditoria femminile dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e al contempo dare visibilità all'arte sfruttando nelle potenzialità anche economiche. Sono state coinvolte 12 artiste visive residenti nella nostra provincia messe a confronto con altrettanti imprenditrici di successo nel corso di un convegno tenutosi l'8 marzo. Le artiste hanno espresso se stesse e interpretato la tematica del mare in un'opera con tecnica libera e ogni artista è stata abbinata a una scrittrice del territorio che con un racconto o una poesia si è ispirata all'opera visiva assegnatale. È stato anche realizzato un libro catalogo con le opere in mostra arricchito dalle relative creazioni letterarie delle scrittrici. La mostra sarà visitabile fino all'11 luglio. E poco dopo il termine di questa edizione del Lette il Giornale Rossini TV vi proporrà questa sera alle 21.15 uno speciale dedicato agli oltre 60 eventi di musica, cinema, teatro e intrattenimento che accompagneranno l'estate dell'Arena BCC a Fano. Arena che domenica 4 luglio alle 21.30 ospiterà lo spettacolo undicesimo dell'ecomico Giorgio Montanini. Spettacolo che ci viene ora illustrato da Mattia Furlani di Senzatempo Music Club che ha organizzato questo evento in particolare. Siamo riusciti a organizzare questa serata e che per noi è un onore perché siamo riusciti a portare a Fano quello che per noi, ma penso anche per l'opinione pubblica è il più grande rappresentante al momento della comunità italiana che è appunto Giorgio Montanini. Sarà una serata molto molto divertente ma anche molto stuzzicante perché appunto è un comico abbastanza satirico e pungente ma noi siamo molto molto contenti di essere riusciti a portarlo speriamo che le cose vadano per il meglio ma siamo convinti di sì quindi ci aspettiamo una grandissima serata da Giorgio. Ce l'aspettiamo anche noi perché come sai benissimo le cose vere si dicono scherzando. Esatto, esatto. Le cose vere si dicono scherzando tenendo quel filo di ironia al limite tra lo stuzzichevole e l'offensivo quindi sì, siamo d'accordo. sarà quel gioco lì, quel gioco lì. Però dai un consiglio a tutti tu che sei veramente del settore di ironia ce n'è tanto bisogno. Sì, soprattutto dopo questo periodo che abbiamo vissuto molto duro per tutti purtroppo anche drammaticamente duro ci vuole tanta ironia per ripartire e penso che qualsiasi forma d'arte la comicità come la musica come qualsiasi appunto altra forma d'arte serva appunto per ridare un po' di respiro a tutti quanti e speriamo che sia l'estate della ripartenza per tutti. Ed ora ci colleghiamo con il nostro Paolo Pagnini che sta seguendo a distanza l'impresa ciclistica di Zico Pieri alle prese con la Stelvio Unlimited ovvero 30 giorni consecutivi in sella alla bici ad arrampicarsi su salite e tornanti di una delle più belle montagne italiane. Buonasera telespettatori di Rossini News dal livello del mare raggiungiamo l'altitudine dello Stelvio per andare a scoprire come sta procedendo l'impresa di Zico Pieri di cui ci siamo occupati qualche settimana fa. Zico come sta andando allora la tua impresa? Non hai voluto svelarci prima il piano però sappiamo per certo che avrai un piano da seguire e allora visto che siamo ormai a un terzo della tua impresa come sta procedendo il tuo piano? Ma dopo l'obiettivo iniziale era quello di trovare una sorta di equilibrio avevo già in mente un ritmo giornaliero ma era tutto da verificare per le condizioni meteo e anche per le difficoltà che la grande montagna come lo Stelvio ci riserva e questa era parte importante del progetto sapevamo che la natura in questo caso dettava le regole e così è stato infatti sono trovato un po' in difficoltà nei primi 3-4 giorni con sbazzi di temperatura altitudine e cose del genere e poi pian piano ho trovato regolarità e un miglioramento insomma continuo giorno per giorno quindi ora l'obiettivo è cercare il migliore equilibrio e mantenerlo Ti chiediamo un piccolo sforzo di immaginazione prova a raccontare ai telespettatori di Rossini TV come ti senti dopo questo primo terzo e che cosa ti aspetti dal prosieguo della tua impresa che ancora deve affrontare ben due terzi della sua durata del suo impegno Il feeling dopo dieci giorni è molto buono devo dire che sono soddisfatto, sono contento però allo stesso tempo se faccio una disamina dei dieci giorni dal primo giorno in particolare siamo partiti con una grande mole di lavoro tra foto e video e partenza molto presto alla mattina devo dire che rivivendo questi dieci giorni ho avuto anche dei momenti di grande difficoltà soprattutto i primi giorni, i primi due, tre giorni quindi saper iniziare un'avventura di 30 giorni e iniziarla in modo così difficile dover affrontare dei malanni fisici come mal di testa continuo, problemi intestinali così bisogna un attimo resettare non pensare più ai numeri e pensare a quello che è il mio obiettivo principale che è la voglia di esplorazione quindi cercare nell'attesa un equilibrio che migliora giorno dopo giorno però è una cosa non semplice da fare ringraziamo Zico e adesso vogliamo sentire Maurizio Radi che non ha resistito alla tentazione ha voluto fare un'incursione in quelle dello Stelvio e da lì e da lui vogliamo sapere qualcosa di più vogliamo sapere per esempio in che condizioni fisiche Maurizio buongiorno in che condizioni fisiche hai trovato il nostro atleta Ho trovato un Zico bene, in buone condizioni sinceramente dopo dieci giorni pensavo forse di trovare una persona più stanca una persona con un viso più provato invece quando sono arrivato in albergo ho trovato il solito Zico sorridente, accogliente come se fosse all'inizio dell'avventura anzi forse ho trovato vigi più stanchi e persone più stanche nel team che lo segue da dieci giorni ma ho visto invece un Zico che in ogni caso nonostante dieci giorni di pedalata era lì che ancora teneva tutti per le redini ed era vivace e pronto per ripartire il giorno dopo Sappiamo Maurizio e lo sanno anche i nostri telespettatori ormai hanno imparato a conoscerti che sei un grande appassionato di bicicletta allora oltre a aver manipolato un po' il fisico di Zico per rimetterlo in forma l'hai seguito anche in qualcuna delle sue risalite dacci una tua impressione come è andata? L'ho accompagnato in qualche risalita è stata una bellissima esperienza soprattutto primo giorno alla mattina con lo steglio chiuso al traffico e quindi solo ciclisti su questa bellissima montagna ho visto un Zico dopo dieci giorni ancora con una bellissima pedalata sciolta, rotonda e quindi cosa dire è stata una bellissima esperienza e vederlo pedalare così dopo tante scalate sullo steglio sicuramente bisogna dire che ha una grande condizione fisica, mentale, psicofisica perché se no non si riesce a fare non si riescono a fare queste imprese se non sei veramente motivato quindi aspettiamo il Zico nei prossimi giorni ma comunque sicuramente andrà avanti per la sua strada senza problemi Per ora come si dice in gergo è tutto torneremo sicuramente prima della conclusione della impresa di Zico a ricollegarci con lo Stelvio e poi naturalmente saremo tra i primi e tra i più completi a raccontarvi tutta la successione degli eventi che stanno caratterizzando questa straordinaria impresa dello Stelvio Unlimited 2021 Per la prima volta nella sua storia la Pesaro Rugby avrà un Director of Rugby si tratta di Nick Scott una figura di primordine nel panorama della palla ovale inglese che entra a far parte della famiglia dei Kiwi come tecnico dedicato alla formazione degli allenatori giallorossi Dopo due stagioni agonistiche mutilate dalla pandemia la Pesaro Rugby riparte inserendo in organico una figura di competenze con poche uguali nel panorama della palla ovale europea si tratta di Nick Scott inglese della Sherwood Forest che per anni è stato niente meno che il formatore responsabile degli allenatori della Federazione Britannica dopo l'esperienza in patria Scott ha ora scelto di crescere la formazione dei tecnici del rugby italiano prima a Colorno per poi avvicinarsi al mondo della Pesaro Rugby attraverso il progetto educativo Rugby volto a contrastare il bullismo un progetto che ha fatto da ponte a uno suo ingresso nella società giallorossa abbiamo colto l'occasione di questa forzata pausa per riflettere su quello che ci serviva di più per continuare a crescere e far crescere i nostri ragazzi i nostri tecnici eccetera la figura di Nick è una di quelle più indicate per un percorso di questo tipo Nick non è un allenatore ma è un allenatore di allenatori ha lavorato per tanti anni per una decina dei quali è stato a capo della federazione inglese del settore tecnico degli allenatori e credo che abbia tutti i requisiti per esserci di grande aiuto nel lavoro che dovremo fare nei prossimi tre anni Nick Scott in conferenza stampa ha detto bisogna allenare le persone prima dei giocatori e la cultura e la comprensione del gioco arrivano prima della performance e questa è la filosofia inglese che trasferirà anche a Pesaro abbiamo lavorato di questo in Inghilterra tante volte e secondo me è per cresciute persone importanti di allenatori encourage creatività adaptabilità resilienza decision making auto organizzazioni in ogni giocatore e in rugby abbiamo un'opportunità di crescere questo durante la nostra partita durante i nostri allenamenti è molto importante per me è qualcosa che abbiamo esplorato in Inghilterra non è parola di me è parola di World Economic Forum per l'employabilità di ogni giovane è molto importante che il rugby ha preso queste opportunità per crescere le persone il mio impegno il mio lavoro è aiutare ogni allenatore di crescere questi valori queste cose in ogni giocatore Pesaro Rugby è contentissimo di averla qui a Pesaro ma abbiamo intuito che anche da parte sua il passare da Colorno a Pesaro è comunque un bel passare due realtà diverse mi piace la cucina di Parma di Colonna era fantastico colatello tutte le cose parmigiano tutte le cose di Food Valley ma adesso per me è un tempo per una realità diversa al mare mi piace molto molto il seafood mi piace molto la spiaggia e vorrei imparare un modo di vita diverso per me Nick Scott in Inghilterra ha formato tecnicamente anche Nicola Mazzucato ultimo allenatore di una Pesaro Rugby che riparte dopo una faticosa stagione agonistica 2020-2021 cancellata dal Covid-19 è stato complicatissimo è stato complicatissimo non solo per noi a Pesaro ma per tutta l'Italia rugbystica per tutta l'Italia dello sport dilettantistico noi avevamo la fortuna di essere inquadrati tra lo sport di alto livello e quindi c'era questa possibilità di continuare ad allenarsi sul piano individuale e per fortuna anche con la grande capacità dei nostri dirigenti accompagnatori team manager siamo riusciti a tenere in piedi un livello di allenamento molto qualificato che non ha fatto scemare la motivazione dei ragazzi a frequentare l'impianto sia dal punto di vista fisico-atletico per la parte della preparazione atletica che da quello tecnico-tattico in campo con gli allenatori siamo riusciti ad arrivare fino alla fine di giugno adesso abbiamo iniziato una pausa prima di riprendere il pre-season dopo Ferragosto e con questo servizio dedicato alla Pesaro Rugby si chiude questa nostra edizione del telegiornale di venerdì vi diamo però qualche appuntamento proprio relativo a questa serata e alla giornata di domani serata che comincia alle 20 e 20 con Marche Punto Europa questo approfondimento che riguarda la nostra regione ben oltre i confini appunto della nostra amministrazione poi alle 21 e 15 come anticipato nelle TG ecco lo speciale dedicato all'estate 2021 all'arena BCC di Fano tutto il programma degli appuntamenti tra teatro musica intrattenimento e comicità poi l'informazione di Rossini TV torna domattina puntuale alle 7 e 20 con l'appuntamento in diretta con Buongiorno Rossini la rassegna stampa di quotidiani locali che per l'occasione lo vedete in grafica sarà condotta da Marco Cadedu e non perdetevi nemmeno lo speciale di domani sera alle 21 e 15 Pesaro quartiere di Zagor presentazione del semestre di capoluogo della cultura ve l'abbiamo mostrato già nel TG vedrete questo speciale molto più ampio appunto nell'edizione di domani alle 21 e 15 ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da parte mia vi auguro un più cordiale saluto di buona serata di buon weekend e una buona continuazione di serata con i nostri programmi di buon weekend